Quindi la parte di oggi, vedete, è dedicata alla privacy e i miei riferimenti li ho già dati, quindi lo lascio più che altro per le slide. Iniziamo con una parte introduttiva, cioè il contesto in cui ci muoviamo oggi. E partiamo proprio da questo, ecco perché prima avevo chiesto se tutti avevano seguito il seminario sul webinar sul copyright e sul diritto d'autore, perché allora buona parte dei dubbi che vengono quando si parla di copyright e privacy derivano dal fatto che c'è confusione tra i due istituti giuridici, tra i due concetti, quindi iniziamo a tracciare questo confine, non parliamo più di copyright oggi, parliamo di privacy, sono due cose diverse, molto diverse, anche se appunto per qualche motivo bizzarro vengono spesso trattate insieme, anche questo mio corso è il diritto d'autore della privacy nella didattica a distanza. Anche quando navigate nei siti c'è la classica pagina con in fondo, non so, le note legali, gli aspetti legali di un sito aprite e si tratta nella stessa pagina sia dell'aspetto privacy sia dell'aspetto copyright, ma è solo una questione di comodità, non è solo una questione di opportunità, non si tratta della stessa cosa, cioè non fanno parte della stessa branca del diritto, anzi come vedete vanno anche in direzioni diverse, quindi noi abbiamo parlato fino a questo momento di diritto d'autore, di copyright, che appunto è l'istituto giuridico che si occupa della tutela delle opere creative e quindi si rivolge a coloro che creano opere e che quindi sono interessati a essere citati come autori. Abbiamo visto che uno dei principali diritti, cosiddetti diritti morali, degli autori è proprio quello di richiedere sempre, anche quando sei stato pubblicato con un pseudonimo, come anonimo, hai sempre la possibilità di rivelarti come autore, quindi è esattamente il contrario della privacy, cioè l'autore ha tutto l'interesse che il suo nome venga collegato alle sue opere e che venga diffuso, che lui assuma anche come autore una certa notorietà. La privacy va nella direzione opposta, diciamo idealmente, perché va nella direzione della riservatezza, della chiusura dei dati personali, ovvero il cittadino, il privato cittadino che quindi non sceglie di esporsi liberamente al pubblico, richiede, diciamo, legittimamente esige di avere una sfera privata entro cui non ha invasioni. E quindi il cosiddetto diritto alla privacy è un calderone abbastanza ampio in cui ci vanno dentro norme appunto relative alla tutela della riservatezza in senso molto ampio, quindi diritti della persona, diritti della individualità, ma anche appunto il diritto, le regole in materia di trattamento dei dati personali e anche le regole in materia di sicurezza dei dati, come vedremo dopo, che sono due cose anche lì non strettamente coincidenti. Quindi oggi parliamo di questa parte qua, cioè oggi parliamo non tanto di persone che vogliono esporsi e pubblicare opere, ma più che altro di riservatezza, di soggetti che intendono rimanere privati, riservati e si rivolgono a queste norme dell'ordinamento giuridico per capire quali sono, in quali termini possono ottenere questa riservatezza. Sento del rumore di fondo, forse qualcuno non ha spento il microfono. Sento battere sulla tastiera, grazie. Quindi iniziamo proprio a definire il concetto di privacy. Privacy è una parola, una dizione chiaramente anglosassone che noi abbiamo importato dall'ordinamento americano, perché è stato lì che si è per la prima volta parlato di questo tema e si è teorizzato, come vedete c'è un articolo citato dalla Harvard Law Review del 1890, che era proprio intitolato The Right to Privacy, in cui si parlava, si definiva questo diritto alla privacy come The Right to Be Let Alone, cioè il diritto a essere lasciati in pace, a essere lasciati da soli. Quindi la parola che è più simile del dizionario italiano al concetto di privacy è riservatezza, quindi noi potremmo tranquillamente parlare di diritto della riservatezza, solo che ormai ci siamo assuefatti all'importazione di termini anglosassoni e diciamo anche noi privacy. In realtà gli inglesi ci correggerebbero comunque per la pronuncia e direbbero privacy, però appunto visto che l'abbiamo importata dagli Stati Uniti è legittimo parlare di privacy. Quindi il diritto alla privacy è il diritto alla tutela della propria sfera privata, come è iniziato a teorizzare da questo giurista Luis Brandeis nel 1890. Da lì si è evoluto, c'è stata una crescita, un'evoluzione della teoria giuridica e anche della giurisprudenza, quindi delle decisioni dei giudici, in tema di tutela della riservatezza. Altro tema, altro concetto con cui spesso si creano sovrapposizioni, invece è importante precisare, che non sono appunto sinonimi, è quello di privacy e sicurezza. Io sento, soprattutto i giornalisti fanno questo errore, quando parlano di, non so, classico attività di hackeraggio, di hacking di un seguito, c'è stato un problema di privacy, c'è stato un problema di privacy, non hanno valutato bene le norme. Sì, è vero, perché in effetti le norme sulla sicurezza dei dati sono associate, sono inserite nel cosiddetto codice privacy o nel regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, però sono due questioni diverse. Cioè, da un lato abbiamo la privacy, che è un concetto più ampio, legato principalmente alla sfera giuridica e anche, come abbiamo detto, dei diritti della persona. Quando parliamo di sicurezza dei dati, è chiaramente una questione più legata alla sfera tecnologica. Tecnica, potremmo dire, perché a volte non è necessariamente tecnologia, cioè anche i dati che sono chiusi in un archivio fisico, quindi non c'è tecnologia, però c'è magari tecnica, nel senso di mettere sotto chiave, proprio in senso letterario, cioè trovare dei modi per archiviare correttamente, tenere protetti dei documenti, no? Però sono, capite, dei concetti diversi. Quindi quando parliamo di sicurezza, stiamo parlando della, diciamo, di tutte quelli standard, di quelle procedure suggerite di carattere tecnico o tecnologico, più propriamente software proprio, per evitare che ci siano fughe di dati, ci siano accessi non autorizzati a delle masse di dati, a delle banche dati. Ovviamente questo poi ha una ripercussione sul tema più ampio della riservatezza, è chiaro, perché se in queste banche dati ci sono anche delle informazioni personali, allora è chiaro che la sicurezza si riflette sulla privacy. Però ecco, non usiamoli necessariamente come sinonimi. Sicurezza è uno degli aspetti in cui si può manifestare l'esigenza alla privacy e alla riservatezza. Non vedremo oggi particolari norme, cioè, allora, se apriamo la normativa sulla privacy, il nostro codice privacy, che poi ormai è stato mandato un po' in secondo piano dal cosiddetto GDPR, quello europeo, vedremo che sono tante le norme in materia di sicurezza, di standard, che devono essere rispettate a livello di sicurezza. Oggi non faremo, non arriviamo a quel livello di dettaglio, anche perché forse per parlare di sicurezza dei dati non sono io la persona più indicata, forse ci vuole un ingegnere, un informatico, però ecco, giusto, mi sembrava opportuno iniziare a fare questa distinzione, a questo chiarimento. Oh, visto che in materia di diritto d'autore la volta scorsa l'abbiamo messa un po' sul piano della consapevolezza, al fatto che il docente è chiamato a nuove sfide, visto che adesso c'è la didattica a distanza e quindi buona parte della sua attività finisce anche sul web, su piattaforme, quindi si pongono nei problemi che solo pochi anni fa non ci si poneva, perché l'attività prima rimaneva nell'ambito dell'aula e quindi, insomma, il problema c'era lo stesso ma si percepiva meno, possiamo dire, adesso invece aumenta la percezione del problema e quindi aumenta l'esigenza di consapevolezza, cioè il docente deve avere un maggior livello di consapevolezza anche su questo tema tipicamente giuridico che prima, solo fino a pochi anni fa, riguardava solamente appunto gli autori che di lavoro facevano gli autori, cioè il diritto d'autore riguardava non tanto il professore di scuola pubblica ma, che ne so, lo scrittore, il musicista, il giornalista o il fotografo professionista. Adesso no, adesso ci rendiamo conto che anche professioni che fino a poco tempo fa facevano altro, che facevano appunto attività di insegnamento come principale obiettivo della loro attività, adesso l'attività di insegnamento li porta comunque a scontrarsi con la questione del diritto d'autore e quindi devono aumentare il loro livello di consapevolezza e fare quindi i corsi di formazione che stiamo facendo in questo momento. La stessa cosa la si fa con la privacy, quindi visto che abbiamo a che fare con la didattica a distanza, con le piattaforme che ci vengono più o meno imposte o quantomeno vengono scelte dalla nostra scuola per fare didattica a distanza e che quindi innescono oltre a problemi di diritto d'autore anche questioni di privacy, bisogna ragionare su un piano appunto di consapevolezza. Io faccio questo breve test per capire quanto i miei corsisti partono già da un livello buono di consapevolezza e faccio questa domanda. Immagino che tutti usiate Google Maps come navigatore, magari non come navigatore in auto, però quando siete in giro avete in mano il cellulare e volete vedere dov'è un ristorante, dov'è una farmacia, dov'è una piazza, chiedete a Google Maps, accendete la geolocalizzazione, la freccina che ci indica che ha acceso il GPS del nostro cellulare e quindi vedete anche la funzione traffico, immagino che la conosciate. Su Google Maps potete vedere se su quella strada c'è un ingorgo, c'è un semaforo bloccato, c'è stato un incidente, c'è dei dati che sono in tempo reale, c'è dei dati che vengono forniti proprio con una precisione di pochi minuti, quindi sapete se davvero in questo momento fare quel giro per arrivare in centro città è conveniente rispetto a fare un altro giro che invece vi fa passare da una zona meno ingorgata. Ecco, la domanda è come fa Google Maps a darvi questa informazione, cioè come fa a conoscere in tempo reale la situazione del traffico in buona parte del pianeta, perché lo fa in Italia, come lo fa negli Stati Uniti, come lo fa in Svezia, come lo fa in Giappone, quindi lui ha una marea di dati che gestisce in tempo reale, una massa di dati mostruosa e che va poi incrociata in un certo modo per potervi dire che davvero lì appunto c'è un ingorgo, c'è un incidente, c'è una coda e vi dà anche, grazie a quello vi fa anche un conteggio di quanti minuti precisi ci mettereste facendo quel giro e quindi vi consiglia anche i vari percorsi alternativi sulla base del tempo, quindi un algoritmo potentissimo basato su una massa di dati enorme, tant'è che si chiamano Big Data infatti. Ecco, come fa ad avere questi dati? io vi do tre opzioni, c'è bisogno che mi rispondiate, cioè basta che vi diate una risposta. Allora, la prima, attraverso il monitoraggio costante fatto dai suoi satelliti, cioè potrebbe essere appunto Google ha dei satelliti e con questi monitora costantemente i vari incroci, le varie strade, quindi ci dice con precisione. Dal punto B potrebbe essere la risposta sono gli stessi utenti a fornire i dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione. Quindi gli utenti, sostanzialmente, secondo l'opzione B, utilizzando l'applicazione, oltre a ricevere dati da Google, danno anche dati a Google e quindi lui, grazie a questa restituzione di dati, fornisce l'informazione a tutti gli altri. La risposta C, invece, è Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici per posto a monitorare il traffico, cioè Google ha degli accordi con, che ne so, la società autostrada, la società, non so, l'ANAS, la società che gestisce i ponti, i caselli, di tutto il mondo, e grazie a questi dati lui appunto li mette insieme e li incrocia. Vi do qualche secondo per pensare qual è di queste la risposta esatta. Pensateci, date la risposta e la risposta esatta è la B. La risposta esatta è la B e questa cosa è scritta, è scritta chiaramente nei termini d'uso dell'applicazione di Google Maps. Quindi cosa vuol dire? Che questo servizio effettivamente potente, effettivamente migliorativo della nostra vita, si basa in realtà su il cosiddetto crowdsourcing, cioè dalla folla, la fonte crowdsourcing è la fonte nella folla. Quindi siamo noi, è la massa degli utenti che fornisce questi dati a Google e quindi è binaria la comunicazione di dati. Non solo noi, quando accendiamo il GPS e avviamo l'applicazione, ci approvvigioniamo di dati, cioè succhiamo dati da Google, ma lui succhia dati da noi. Solo che da noi ne succhia magari pochi, cioè solamente la nostra posizione e la velocità a cui stiamo andando, che però non è poca cosa perché sommata la posizione di altre 50 persone che sono in quell'incrocio, gli fanno capire che lì appunto c'è un incidente, c'è un semaforo bloccato, perché 50 persone gli stanno dicendo che sono ferme o stanno andando ad una velocità molto molto lenta e quindi lì c'è una coda, lì c'è un ingolgo. Lui incrocia questo dato e dà a tutti gli altri, alle altre mille persone che invece vorrebbero passare di lì, l'informazione che lì c'è un problema. E gliel'abbiamo data noi questa informazione. Quindi vuol dire che in un certo senso Google sa dove siamo, sa a che velocità stiamo andando, sa se siamo su una macchina o se siamo a piedi o su un marciapiede. Riesce anche a fare questo tipo di valutazione probabilmente. Ok? E quindi sapere questa risposta, io spesso quando la utilizzo nei corsi, purtroppo è una didattica a distanza, questa cosa non riesco a capirla, nel senso che mi manca il non verbale. Però solitamente, anche se non mi danno la risposta quando dico che è la B, vedo delle facce un po' smarrite, perché capisco che alcuni degli utenti, alcuni dei corsisti qua davanti, non avevano minimamente contezza di questa loro funzione di fornitori di dati. Pensavano che avere uno smartphone fosse solamente uno strumento per avvantaggiarsi di qualcosa. Invece no, noi stiamo fornendo informazioni ai service provider, ai fornitori della piattaforma. E lo facciamo con tutte le applicazioni. Tutte le applicazioni che abbiamo scaricato gratis, soprattutto quelle gratis, non sono mai davvero gratis, ma noi le stiamo pagando proprio attraverso la disclosure dei nostri dati, attraverso la concessione di lettura della nostra vita privata, della nostra posizione, della nostra, non lo so, ad esempio preferenze commerciali, il fatto che se ci lasciamo tracciare anche quando entriamo nei ristoranti o entriamo nei negozi, i vari fornitori di servizi, che siano Facebook, che siano Google, che siano Twitter o WhatsApp, sanno che noi siamo entrati in un grande magazzino che vende scarpe, quindi probabilmente stiamo cercando un paio di scarpe. Ok? Cioè, tutte queste informazioni non le stiamo dando, non è che le stiamo ricevendo. e queste vengono utilizzate poi per fare business, per vendere spazi pubblicitari, per vendere informazioni agli inserzionisti. Quindi questo è il contesto in cui ci muoviamo e questo serve per farvi capire il problema. Lo stesso problema lo vedremo alla fine del seminario di oggi quando parleremo di dati a distanza, per cui infatti il Garante Privacy ha sottolineato di stare attenti all'utilizzo di alcune piattaforme piuttosto che altre perché le piattaforme devono essere mirate unicamente alla fornitura di servizi di didattica. Se usiamo altre piattaforme che invece sono più fra virgolette generaliste, c'è il rischio che attraverso attività di didattica a distanza forniamo, anche se inconsapevolmente, come succede in questo caso, informazioni ulteriori sulle preferenze, su, non so, ad esempio pensate allo stato di salute dei nostri studenti, problemi studenti che hanno magari disabilità particolari. Quelli sono dati particolarmente delicati, una volta vengono chiamati dati sensibili, adesso vengono chiamati dati particolari, di natura particolare, perché hanno una tutela ancora maggiore dall'ordinamento rispetto ai dati personali generici. E quindi dobbiamo stare attenti a questa appunto attività di fornitura di dati e non solamente di approvvigionamento di informazioni dall'internet. E appunto vi dico, lo facciamo costantemente perché tutte le applicazioni che scarichiamo, se andate a leggere i termini d'uso queste cose sono scritte, a volte in modo chiaro, a volte in modo meno chiaro, cioè a volte giri di parole travestiti bene, diciamo cammuffati bene perché gli uffici legali sono ben addestrati a fare questo, scritte in carattere 08, nascoste in qualche footer del sito in cui nessuno va davvero a leggere, però c'è scritto che l'utente quando si collega fa queste attività e concede la visibilità al service provider di alcune informazioni. Ecco, quindi aumentiamo il nostro grado di consapevolezza, non sto dicendo che adesso dobbiamo spegnere tutto e tornare indietro, però almeno avere contezza che togliendo dal nostro smartphone la geolocalizzazione, sapete che basta andare nei settaggi quelli che scendono dall'alto e c'è la freccina quella che indica la geolocalizzazione, già togliendo quella togliamo una serie di possibilità ai service provider di tracciare i nostri spostamenti e accenderla quindi solo quando davvero ci serve essere geolocalizzati, sapere dove siamo perché ci stiamo perdendo, dobbiamo sapere dove andare al ristorante e quindi dobbiamo accenderlo, allora in quel caso è utile. Lasciarlo sempre acceso è proprio un modo per lasciarci tracciare costantemente, lo so che poi è comodo, oggettivamente lo capisco, però riflettiamo su questo e finché lo facciamo sulla nostra pelle, cioè sul nostro cellulare nell'attività privata, ognuno è libero di farsi del male come crede, ok? Ma nel momento in cui facciamo un'attività istituzionale e che coinvolge altre persone, fra cui i nostri studenti che sono pure dei ragazzi minorenni, allora il livello di consapevolezza deve essere necessariamente più alto ed è un motivo per cui siamo qua oggi, quindi mi auguro che alla fine di questo seminario usciate con un livello di consapevolezza maggiore come è successo con una parte sul diritto d'autore.